Buongiorno a tutti, in questo video tutorial vediamo come compilare nel modello di presentazione della domanda per le 150 preferenze per le supplenze annuali e fino al termine di attività didattiche da GPS, come compilare la sezione delle precedenze di cui è la legge 104 del 5 febbraio 1992. Una volta entrati nel sito del Ministero dell'Istruzione e con lo speed si entra nel modello di domanda di presentazione come avete visto già in altri video tutorial, c'è proprio l'ultima sezione azioni disponibili per poter inserire la precedenza di cui è la 104, ma prima di fare questo inserimento e far vedere come funziona è opportuno leggere insieme quello che dice la circolare sulle supplenze 2022-2023 in riferimento proprio alle precedenze della legge 104. Andiamo appunto in questa circolare, al punto 4.2 troviamo priorità di scelta della sede scolastica, leggiamo insieme per capire una cosa molto importante. Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano nell'ordine degli articoli 21, 33,6 e 33,57 della legge 104.92 si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la gradatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina sui posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica. In tal caso, in tali casi, l'aspirante fluisce della priorità nella scelta sempre che permandano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che se un docente ha diritto a una supplenza, per esempio al 31 agosto, dunque un annuale, e ha la 104, per esempio l'articolo 21, allora ha una priorità e scavalca tutti i docenti che hanno quel diritto all'annuale. Ma se il docente inserito in gradatoria non ha diritto a un annuale a un 31 agosto, ma avesse diritto a un 30 giugno, non potrà scavalcare tutti gli aspiranti che hanno diritto al 31 agosto, ma avrà la priorità solo ed esclusivamente nel gruppo del 30 giugno. Se non rientra tra i docenti che dovranno avere la supplenza, non godrà di questa priorità e questo pare evidente proprio da quanto detto in questa circolare. Torniamo nella pagina della domanda per vedere come compilare la sezione che più che una precedenza diventa una priorità basata sulla legge 104-92. Tornati nella pagina basta andare sull'ultima sezione, quella delle precedenze, e fare inserisci. Ecco che si apre un quadro delle priorità di cui ha la legge 104-92 e ne abbiamo quattro tipologie. Quella di fruire la precedenza di cui è l'articolo 21 della legge 104, che oltre ad avere questo, diciamo, articolo 21, dunque una disabilità, articolo 3 anche comma 1, o articolo 3 comma 3, ma in questo caso molto spesso è articolo 3 comma 1, cioè un'invalidità non grave, ma dovrà avere un'invalidità superiore ai due terzi. Allora chi ha una situazione di questo tipo potrebbe essere anche un riservista, ma se non lo fosse riservista, dunque se non avesse il posto riservato secondo la legge 68-99 e ha solo la priorità, clicca in questo caso e compila i campi sottostanti, cioè la certificazione, cioè il documento che certifica l'articolo 21, la data di rilascio del documento e il numero dell'atto del documento. Ecco questa invece, questa forma serve per scegliere il file da inserire che riguarda proprio la documentazione di questo articolo 21 della legge 104 e poi si fa salva e viene salvato la richiesta di questa priorità. Ci potrebbe essere una seconda priorità, quella di fruire dell'articolo 33,6, cioè di avere uno stato di gravità sul docente stesso, cioè una 104 personale. Anche in questo caso, diciamo come nel primo caso c'era da compilare, c'è la stessa cosa compilare la parte sottostante. Dopodiché si passa a altri due tipi di 104, quella riferita all'articolo 33,5,7 che può essere in questo caso, dunque la terza opzione, riferita al referente unico per il proprio figlio o per il proprio fratello, cioè l'assistenza per esempio a un figlio e dunque cliccando su questa voce, compilando il cognome, il nome del figlio e dicendo dove è nato e dove è residente, perché la residenza in questo caso è importantissima perché si tratta di assistenza e dunque bisognerà dare la sede più vicina al domicilio dell'assistito e poi si deve per forza flaggare se la precedenza dell'articolo 33,5,7 ha una connotazione di gravità, perché è importante che ci sia l'articolo 3,3 per quanto riguarda la situazione della 104 del figlio. Dunque si deve flaggare questo e per cui si compila nome, cognome e le stesse cose che appunto dicevamo precedentemente e si deve dichiarare inoltre come obbligatoria il caso di assistenza al disabile in situazione di gravità che l'assistito non sia ricoverato permanentemente in un istituto di cura e dunque si va a cliccare questo e come obbligatorietà che non ci siano stati altri familiari che hanno fruito dei tre giorni della legge 104 quelli mensili o nell'anno 2021-2022 e di avere richiesto nello stesso anno scolastico di fruire dei tre giorni di permesso mensile senza l'articolo 33,3 della legge 104 parlando 2021-2022. Dunque il referente unico deve avere anche queste condizioni, dopodiché si compila come al solito anche la certificazione di riferimento e si allega in file. ultima, questi qua sono riferiti sia al coniuge o al genitore nel caso del quarto riquadro. Per il genitore c'è anche la condizione della preferenza unica che va tutta inserita a sistema. inoltre si può appunto vedere che c'è coniuge, genitore, ma si può avere anche la condizione di tutela legale, dunque allargare la questione anche a parenti, affini, a persone comunque per cui si ha una omologa per la tutela legale. Detto questo speriamo che questo video tutorial sia comodo e utile ai nostri telespettatori. Seguiteci ancora nel nostro canale YouTube, in Facebook e nel nostro sito www.technicerascolla.it perché parleremo ancora della domanda delle GPS per la scelta delle 150 preferenze e di altri temi importantissimi in questo periodo estivo. Arrivederci a tutti! Grazie! Grazie!